buongiorno a tutti in questo ultimo video della settimana proveremo a svolgere insieme un esercizio un esercizio che proverà a chiudere diciamo così il gap tra quanto abbiamo visto a lezione nei video passati e quanto vi è richiesto di fare nel laboratorio 3 dato che nel laboratorio 3 è richiesta anche di riprendere alcuni concetti di programmazione oggetti in javascript ho pensato che un video di esempio potesse essere utile guardiamo il punto di partenza che ho già pubblicato su github e vi fornirò il link diretto nel caso vogliate provare a rifare l'esercizio partendo da zero il punto di partenza è un esempio una pagina web statica molto simile a quella che abbiamo realizzato la settimana scorsa nell'esempio della settimana passata quindi una pagina per i miei esami che ho sostenuto con una tabella che mi riporta la data l'esame i crediti e il voto che ho preso in quell'esame e quindi in maniera analoga a quello che era l'esempio della settimana passata e ho aggiunto una sidebar laterale con tre voci tutto per mostrare tutti gli esami 2020 per mostrare gli esami del 2020 2019 per mostrare gli esami del 2019 quindi cliccando su 20 ci aspetteremmo di avere una tabella con solo queste tre voci cliccando su 2019 vorremmo avere una tabella con solo questa voce al momento tutto questo è vedete statico e tutto inserito nel codice html questi bottoni questi link non funzionano e gli esami sono inseriti qui quello che vorremmo fare in maniera analoga a quello che chiesto voi di fare nel laboratorio 3 e di rendere dinamica questa pagina e quindi di caricare le informazioni della tabella direttamente da javascript e rendere questi link funzionanti per farlo ovviamente utilizzeremo javascript e utilizzeremo javascript oggetti quindi le classi e quant'altro ovviamente per popolare questa tabella e anche per fare alcune operazioni su questa lista dei link avremo bisogno di manipolare il dom della pagina io ho aperto poi qui due tab che probabilmente non userò durante l'esempio però voi durante il laboratorio potrebbe essere una buona idea per voi tenere aperti questi e altro altri tab come documentazione aggiuntiva ho aperto come solito la documentazione di bootstrap nel caso ci sia bisogno di modificare o di aggiungere uno stile a un qualcosa della nostra pagina e ho aperto la documentazione di mozilla gli mdn webdocs sulla parte di web api perché per esempio ci permettono di vedere le proprietà del dom ci permettono di vedere gli elementi quindi vari query selector eccetera se non ricordiamo esattamente come chiamare come si può prendere un id all'interno di una pagina in javascript le slide e la e questa documentazione sono molto utili come appunto supporto io penso di non utilizzarle finché mi ricordo diciamo come si fanno le cose non la utilizzerò appena avrò un dubbio sicuramente la la aprirò però averla qui aperta è sicuramente comodo per sviluppare quindi iniziamo la prima cosa che possiamo fare in questa pagina html è sistemare questi link noi abbiamo visto nei video passati che javascript ha aggiunto una proprietà defer che permette di ottenere lo stesso risultato o analogo diciamo all'inserire questi script in fondo al body ma mettendoli nel led quindi quello che adesso andiamo a fare è un'operazione molto semplice andare a prendere questi script lì dalla fine del body e li incolliamo nel led assicurandoci ovviamente che ci sia questa proprietà defer in tutti e questo è facile salviamo e verifichiamo che tutto continui a funzionare apriamo anche la console per vedere se ci sono errori non ce ne sono perfetto allora proviamo a ridurre un pochino questo e perché ci servirà dopo a questo punto possiamo iniziare a lavorare nel in javascript per esempio a popolare questa tabella quindi che cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno innanzitutto in html di avere un qualcosa che mi permetta di recuperare questa sidebar perché vorrò intercettare gli eventi di click su questi tre bottoni e poi un qualcosa che mi dica dov'è questa tabella perché io da javascript voglio poterla riempire voglio poter mettere dentro queste righe allora quello che io in realtà ho già fatto è aggiungere un id vedete sidebar a questa lista di link e un id i miei esami a il tbody della tabella perché al tbody della tabella perché a me non interessa rimpiazzare l'intera tabella inclusi data esame crediti e voto ma mi interessa solo sostituire il contenuto escluso l'intestazione della tabella e quindi ho messo un id laddove c'è la parte che andremo a manipolare in javascript che è giustamente il contenuto della tabella questa è una scelta perché vogliamo popolare questa tabella e non modificarla completamente a dovessimo anche modificare l'intestazione potremmo mettere questo id per esempio a livello della classe table del tag table ok quindi queste due modifiche all'html le abbiamo a questo punto possiamo iniziare a preparare un file javascript quindi prima di tutto apriamo la nostra il nostro editor e aggiungiamo una tabella una cartella che chiamiamo js che conterrà tutti i file javascript che creeremo e iniziamo a crearne uno che chiamiamo main.javascript ovviamente al momento vuoto questo main.javascript andrà poi importato nella nostra pagina html quindi qui possiamo mettere custom javascript per esempio script src uguale js main.js e salviamo in questo modo abbiamo incorporato questo file main.js nella nostra pagina così abbiamo accesso al DOM di questa pagina e anche agli altri eventuali metodi e funzioni messe a disposizione da file javascript che precedono questa pagina ora andiamo in questo main javascript e come prima cosa come il solito scriviamo use strict così impostiamo sempre l'ambiente strict appunto come il solito aumenta un po' lo zoom così magari è più leggibile nel video ora noi qui potremmo usare due approcci il primo approccio è quello di iniziare qui in questo file a scrivere codice javascript tutto di fila uno dopo l'altro quindi per esempio potremmo scrivere potremmo mettere document.queryselector di myexam che era la tabella che abbiamo definito e magari questo salvarlo in una costante che chiamiamo table e a quel punto andare a dire ok svuotiamo la table quindi table.qualcos'altro eccetera e iniziare quindi qui a scrivere tutto il nostro javascript uno di seguito all'altro quindi qui un po' di codice per popolare la tabella e poi dopo un po' del codice per gestire la barra laterale quindi tutto di fila questo è l'approccio diciamo così classico un approccio tradizionale del web avere una pagina javascript con dentro tutto quello che serve a questa pagina javascript andando a intercettare eventuali eventi per cui magari questo codice per popolare la tabella lo chiamiamo solo quando la pagina si è caricata del tutto e così via un approccio un pochino più moderno e contemporaneo dato anche che javascript supporta le classi supporta i moduli e quindi è possibile importare ed esportare oggetti e passare proprietà da una classe all'altra e appunto strutturarlo a classi allora l'approccio che adesso userò è quello che vi suggerisco nel laboratorio che è uno dei possibili approcci per strutturare a classi un'applicazione web diciamo client side è quella di avere un main.javascript di questo tipo quindi non a classi che prenda gli elementi diciamo così fondamentali o principali del DOM e li metta a disposizione a un altro file javascript che sarà fatto a classi che potremmo chiamare app come applicazione per appunto far sì che sia questo app che riceve elementi html già in formato javascript diciamo e possa manipolarli di conseguenza quindi quello che andremo a fare adesso è sempre in questa cartella js aggiungere un file che si chiama app.javascript e lo andiamo a a questo punto importare qui script src uguale javascript js app.js ovviamente entrambi questi devono avere il defer se sono nel led e notate l'ordine con cui sto mettendo siccome il main avrà bisogno di chiamare app app viene prima del main quindi app cosa avrà? app sarà una classe che chiamiamo app che avrà un costruttore che farà qualcosa ovviamente quindi app sarà quella che si preoccuperà di essere il punto di partenza per popolare questa tabella e per far funzionare questa barra laterale quindi da main facciamo const app uguale new app quindi inizializziamo app. ora dato che app deve essere dal nostro punto di vista quello che riceve direttamente gli elementi html per esempio il risultato di questo query selector dovremmo passare qualcosa a questo app. cosa passiamo a questo app? quali sono gli elementi, i contenitori su cui vogliamo agire? beh vogliamo agire su questo contenitore della tabella e su questo contenitore della sidebar quindi potremmo fare un query selector per l'id myexam e metterlo in una variabile che possiamo chiamare exam container perché è il contenitore degli esami e fare la stessa cosa per la nostra sidebar la chiamiamo magari sidebar container e sarà un query selector a che cosa? all'id della sidebar che ho semplicemente chiamato sidebar quindi qui l'id di sidebar a questo punto ad app passiamo sia exam container che sidebar container ovviamente passando questi dobbiamo anche di qui nel costruttore prevedere che il costruttore accetti due parametri uno che chiamiamo per semplicità per ricordarci exam container e l'altro che chiamiamo sidebar container che sono appunto i due elementi html già recuperati dal DOM per effettuare le due operazioni principali che vorremmo fare riempire la tabella e far azionare questa barra laterale ora come prima cosa partiamo dal riempire la tabella allora per riempire la tabella dobbiamo innanzitutto creare una classe possiamo o meglio creare una classe che rappresenti il modello di un esame rappresenti un singolo esame, le proprietà di un singolo esame allora quali sono queste proprietà di un singolo esame? abbiamo che l'esame ha una data abbiamo che l'esame ha un nome abbiamo che l'esame ha un numero di crediti e abbiamo che l'esame ha un voto quindi vorremmo costruire una classe che ci permetta di avere un oggetto composto da queste quattro classi da queste quattro proprietà quindi in maniera analoga andiamo a creare un altro file un'altra classe che chiamiamo esame quindi torniamo qui sempre in JS nella cartella andiamo a creare una classe che si chiama exam.javascript come prima andiamo immediatamente nell'index.html ad aggiungere questo script che abbiamo inserito e che mettiamo qui exam.javascript perché lo metto prima di app? perché mi aspetto che app abbia bisogno a un certo punto di accedere a esame quindi non ha senso metterlo dopo quindi esame cosa mettiamo in questo esame? esame rappresenta il modello del nostro singolo esame della nostra singola voce d'esame quindi sarà una classe che chiama exam che avrà un costruttore come una buona classe e questo costruttore che parametri prenderà? questo costruttore dovrà costruire un esame quindi prenderà questi quattro parametri quindi data nome crediti e il voto e a questo punto costruiamo appunto in una maniera classica di programmazione oggetti questo nostro oggetto cosa deve fare il costruttore? il costruttore deve fare this.date uguale date this.name uguale name this.credits uguale credits e this.grade uguale grade semplicemente una classe un oggetto che ci permette di rappresentare un esame con le sue proprietà aggiungiamone una proprietà all'esame diciamo che l'esame deve anche avere un identificativo univoco perché? perché a un certo punto magari sicuramente nel laboratorio ma magari a un certo punto ci servirà andare a recuperare esattamente questo esame quindi la terza riga della tabella e quindi è bene associargli un identificativo univoco numerico per semplicità identificativo univoco numerico che però deve cambiare quindi qui sarà 1 qui sarà 2 qui sarà 3 qui sarà 4 per esempio quindi andiamo a impostare un contatore per esempio statico in modo che poi qui possiamo fare exam.counter più più quindi ogni volta che creeremo un oggetto un nuovo oggetto di tipo esame una di queste righe andremo a prendere questo contatore che inizialmente sarà 0 e incrementarlo di 1 ogni volta quindi a un certo punto avremo che questo avrà un id di 1 superiore alla riga precedente o meglio l'oggetto che rappresenta in memoria questo avrà un id superiore all'oggetto che rappresenta in memoria questo se questo viene creato subito dopo questo quindi adesso abbiamo il nostro esame semplicemente un modello ora per popolare questa tabella abbiamo bisogno di una lista di questi esami questa lista adesso è in HTML dobbiamo portarla fuori dall'HTML e dobbiamo portarla in JavaScript quindi potremmo fare un'altra classe abbiamo quindi riassumendo in questo momento la classe main che è il nostro punto di ingresso punto di congiunzione tra l'HTML e il JavaScript abbiamo la classe app che gestisce gestirà lo stato delle nostre intera applicazione abbiamo la classe esame che rappresenta il modello di un singolo esame potremmo avere una classe lista di esami quindi exam list exam manager un qualcosa del genere che gestisca la lista di esami e perché no gestisca anche il fatto che da questa lista possiamo volere solo quelle del 2020 o possiamo volere solo quelle del 2019 ma partiamo dalla lista quindi torniamo qui e aggiungiamo una nuova file che chiamiamo exam manager punto javascript come prima apriamo index html e andiamo ad aggiungere un exam manager esattamente come prima perché l'ho creato dopo exam stavolta perché exam manager avrà bisogno anche lui di accedere ad exam suppongo che qui dovendo creare in questo exam manager la nostra lista di esami la nostra lista di esami sarà una lista di oggetti di tipo exam e quindi exam deve venire prima quindi nel nostro exam manager class exam exam manager exam manager tutto come il solito quindi questo è il punto di partenza standard cosa facciamo in questo exam manager in questo costruttore in questo exam manager in questo costruttore costruiamo questa lista quindi innanzitutto ci servirà una variabile che contenga la lista che possiamo chiamare exam ed è una variabile vuota potremmo scrivere qui dentro new exam eccetera eccetera potremmo però cerchiamo di fare le cose un pochino per bene un pochino in maniera sistematica quindi creiamo il costruttore mi riempie mi crea una variabile una lista vuota e poi mi chiamo un metodo che potremmo chiamare build my exam che cosa farà questo build my exam semplicemente riempirà questo array perché lo facciamo separato ai fini di questo esercizio dato che questi dobbiamo scriverli noi potremmo scriverli direttamente qui ma se immaginiamo che questi non siano da scrivere direttamente nel codice ma le dobbiamo leggere da un file esterno qualcuno ce li fornisca da qualche altra parte allora questo build my exam potrebbe essere poi riutilizzato per leggere questo file esterno o per recuperare queste informazioni da altre sorgenti di dati quindi costruiamo il metodo build my exam che non ha parametri e cosa fa build my exam build my exam costruisce questa lista costruiamola identica quindi costruiamola a pezzi partiamo dal primo diremmo new exam con che proprietà exam vedete? date date 2020 trattino 0 2 trattino 0 1 virgola il nome algoritmi 1 virgola i crediti 9 virgola il voto 28 quindi questo lo ripetiamo 4 volte 1 per ogni esame questi poi vanno messi in questo exam quindi facciamolo subito this.exams .push ricordate push serve a inserire oggetti in un array push di cosa? di questo di la sua equivalente di basi dati quindi 4 volte e 4 volte quindi mettiamo queste date 0 2 è giusto 0 6 il corso si chiama basi di dati quindi rimpiazziamolo i crediti questa volta sono 6 e l'esame questa volta ha generato un 30 lode dopodiché abbiamo 15 febbraio l'esame si chiama paradigmi di programmazione e da 9 crediti e il voto è 26 infine questo è un esame del 2019 di settembre 10 e l'esame si chiama programmazione 2 scriviamolo in numeri romani come algoritmi 1 è un esame da 9 crediti e il voto questa volta è 27 ok abbiamo costruito il nostro array con questi esami perfetto ora abbiamo una classe che modella il nostro esame che abbiamo usato qui abbiamo una classe che si chiama exam manager che ci costruisce questa lista direi che possiamo a questo punto prendere questa lista e andarla a inserire in questa tabella dove lo facciamo lo facciamo dalla classe app questa volta sì quindi la classe app cosa farà la classe app prima di tutto dirà creerà un'istanza di exam manager perché è lui che contiene la lista degli esami che ci serve poi visualizzare quindi nuovo exam manager a questo punto recuperiamo la lista degli esami ovviamente da exam manager che ha una proprietà exam quindi andiamo a prendere quell'esatta lista di esami a questo punto possiamo creare chiamare un metodo che popoli questa lista chiamiamola show exam per esempio quindi andiamo a creare questo metodo show exams show exams dovrà popolare riempire questa lista allora quindi manipolare il dom allora andiamo intanto a svuotare questo t-buddy allora prima di svuotarlo fatemene copiare uno così ci ricordiamo qual è l'esatta struttura di un di un di un esame visualizzato quindi questa e in index html prendiamo tutto questo e cancelliamolo vedete rimaniamo col t-buddy col t-head compilato e col t-buddy vuoto andremo appunto a compilarlo col javascript quindi qui potrebbe essere javascript will fill it riempirà questa parte il javascript benissimo a questo punto torniamo su app cosa deve fare questo nostro esame beh questo nostro esame deve prendere gli esami da questa variabile e costruire questa tabella ora vedete che se noi aggiorniamo questo giustamente in questo momento rimane vuoto perché l'abbiamo svuotata dobbiamo andarla a riempire e come facciamo a riempirlo dobbiamo costruire questa struttura e una volta per ogni esame quindi ci potrebbe servire un ciclo for for let exam of perché è un array this.exams quindi cicliamo su questo array e ne prendiamo uno alla volta questo array avrà esattamente i quattro esami uno per volta e cosa facciamo? dobbiamo costruire questo come? utilizzando quei metodi di manipolazione del DOM che abbiamo visto a lezione quindi dobbiamo costruire un TR e poi per ogni esame prendere la data e inserirla in un TD prendere il nome dell'esame e inserirla in un secondo TD e così via quindi creiamo il TR document punto create element tr semplicemente e io siccome ricorderete che quando creiamo un elemento dobbiamo anche ricordarci di aggiungerlo alla pagina quello che faccio appena creo un elemento e anche appendere aggiungere quell'elemento alla pagina in modo da evitare di dimenticarsi di aggiungerlo quindi aggiungiamo questo TR a la tabella allora la tabella l'abbiamo messo in questo exam container quindi facciamo this.examcontainer uguale exam container così possiamo dire this.examcontainer punto append child tr in questo modo abbiamo preso il nostro exam container il nostro il nostro t-body della tabella e l'abbiamo riempito col TR a questo punto cosa ci serve abbiamo creato il TR dobbiamo creare il TD quindi const TD di date ce ne serviranno 4 document punto create element TD e TD di date punto inner text cosa avrà? avrà exam punto date e come il solito abbiamo creato un TD andiamo a inserirlo quindi tr punto append child TD date ora possiamo subito provare se funziona abbiamo qualche problema quindi aggiorniamo e vediamo che in effetti la nostra tabella la nostra il nostro codice funziona e abbiamo aggiunto effettivamente i campi che ci servono ovviamente solo la data non gli altri perché non abbiamo ancora scritto il codice corrispondente allora copiamo e duplichiamo questo quattro volte essenzialmente dove qui sarà name e prenderemo name questo sarà crediti e andremo a mettere al suo interno credits e qui sarà td grade e andiamo a mettere al suo interno grade come abbiamo aggiunto come figlio date aggiungiamo come figlio anche gli altri quattro in ordine prima data poi esame poi crediti e poi voto quindi questo si chiama name questo si chiama credits e questo si chiama grade salviamo aggiorniamo la pagina e vediamo che per esempio ci manca voto perché ci manca voto? allora controlliamo che questo abbiamo messo giusto qui l'abbiamo passato correttamente data nome crediti voto qui l'abbiamo aggiunto td date td name td credit td grade salviamo proviamo a riaggiornare vedete vedete il td lo crea ma lo lascia vuoto certo perché giustamente mi sono dimenticato di fare così ok riempivo ovviamente data e non grade copia e incolla andato male ok abbiamo così popolato la nostra tabella e vedete che programmazione 2 è ovviamente diventata con i numeri romani perché è così che l'abbiamo definito nel nostro file quindi questo adesso non ci serve più e abbiamo così popolato la nostra tabella ora quello che ci manca da fare abbiamo già fatto in realtà quasi tutto quello che ci manca da fare è aggiungere il fatto che quando premo su questo 2020 voglio vedere solo gli esami del 2020 quando premo su 2019 voglio vedere solo gli esami del 2019 se ci sono allora dobbiamo modificare due cose per poterlo fare sicuramente dobbiamo modificare app per esempio creando this.sidebarcontainer in modo da andare a prendere eventuali informazioni che sono qui e poi dobbiamo andare a dire a costruire un metodo costruire una funzione che ci dica data la lista dammi solo gli elementi di un certo anno quindi l'idea è quando clicco 2020 qualcuno mi restituisce la lista questo exams con solo gli elementi dell'anno che ho cliccato chi è questo qualcuno? questo qualcuno è ovviamente exam manager perché è lui che costruisce questa lista è lui che può gestirla e quindi andiamo a costruire un altro metodo dentro exam manager che chiamiamo get by year per esempio che dato un anno 2020 e quant'altro mi restituisca un diciamo esami filtered exam un qualcosa che abbia gli esami filtrati solo per questo anno quindi questo qualcosa cos'è? come dovremmo fare? dovremmo ciclare su questa lista e dire se la data indicata qui è compresa tra il primo gennaio del 2020 e il 31 dicembre del 2020 e l'anno è il 2020 prendilo e così via oppure vogliamo appunto sapere se ognuno uno di questi filtrare questo array in modo da prendere solo gli item degli array la cui data è compresa tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno specificato qui ora questo potremmo farlo con un for quindi for exam of these punto exams eccetera e quindi dire if exam punto date è minore di è minore di iar 0 12 31 allora ed è anche maggiore eccetera oppure possiamo farlo direttamente con i filtri e la modalità funzionale di javascript di programmazione funzionale quindi usando this.exams punto filter this.exams punto filter che prende un esame e ci permette di dire exam.date e fare qui il confronto che dobbiamo fare ora date è in questo momento una stringa ed è visualizzata in questo modo e noi vorremmo visualizzarla come era prima quindi prima il giorno poi il mese poi l'anno quindi per fare ciò possiamo introdurre moment javascript questa libreria qui quindi introdurla vuol dire scaricarla quindi salviamola mettiamola direttamente nella cartella nella cartella giusta quindi io ce l'ho sul desktop javascript qui ovviamente l'ha scaricato ho scaricato scusate fai sbagliato scarico questo sotto salva ok e fatemi cancellare questo che non serve e andiamo a importare moment a questo punto che serve per gestire le date nel nostro index html script defer src uguale javascript slash moment min javascript e salviamo a questo punto in exam manager andiamo invece di definire queste come stringhe a utilizzare moment perché moment perché moment se prendiamo la documentazione ha una funzionalità comoda che adesso non trovo più è questo qui is between che ci permette di dire se una certa data è tra due date e a noi va bene perché noi vorremmo dire se la data del nostro esame è tra il primo gennaio di quell'anno e il 31 dicembre di quell'anno allora prendiamola perché stiamo filtrando per anno quindi questo diventa moment diventa non più una stringa ma un oggetto di tipo moment e in particolare diamogli anche il formato il formato è anno 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 trattino mese mese trattino giorno giorno il formato che stiamo usando qui in questo testo quindi così tanto sono tutti uguali moment così e moment così così abbiamo una gestione delle date un pochino più avanzata che non manipolare del testo a questo punto questo date è un oggetto di tipo moment quindi possiamo fare punto is between che cosa è tra l'abbiamo detto il anno gennaio primo e anno 31 dicembre quindi è tra anno più mese giorno gennaio primo virgola anno più 12 31 quindi cosa fa di nuovo ripetiamo questa funzione questo metodo questo metodo ritorna una porzione di esami di questa lista esami solo quando i valori rispettano questa condizione del filtro e qual è questa condizione del filtro la condizione che la singola voce deve avere una data compresa tra l'anno passato qui il primo gennaio di quell'anno e il 31 dicembre di quell'anno quindi se quest'anno è 2020 questo filtro cosa farà dirà prendo il primo elemento questa prendo la data di questo elemento questa data è compresa tra 2020 01 01 e 2020 12 31 sì e allora questo lo prendo poi vado al secondo e faccio lo stesso check e lo prendo vado al terzo faccio lo stesso check e lo prendo vado al quarto faccio lo stesso check e non lo prendo se ovviamente anno è 2020 stessa cosa per un 2019 un qualunque altro anno qui mancano questi meno ok e questo metodo l'abbiamo fatto quindi ora abbiamo un metodo che data la nostra lista di esami ci restituisce solo quelli filtrati ora possiamo tornare a lavorare in app quindi perché adesso è un problema di intercettare gli eventi questi click e aggiornare questa tabella quindi abbiamo preso il container abbiamo creato l'esame manager ora cosa dobbiamo fare dobbiamo fare due cose la prima è andare a dire che ognuno di questi deve essere quando viene cliccato sia tutto che 2020 che 2019 deve appunto aggiornare la tabella di conseguenza non solo deve anche cambiare questo blu da qui a qui per esempio se clicchiamo 2020 ma dobbiamo farlo per tutti questi e questi sono tre in questo momento ma potrebbero essercene molti di più quindi possiamo farlo in codice in modo da supportare una lista tendenzialmente infinita come lo facciamo lo facciamo dato che questi nell'html se andiamo a vedere è un nav quando all'interno degli a questo è un a questo è un tag a e questo è un tag a andiamo a prendere i tag a all'interno di questo nav che è al nostro di sidebar quindi diciamo this.sidebarcontainer .queryselector all perché li vogliamo prendere tutti non solo uno cosa all? a perché vogliamo tutti i tag a all'interno di sidebar container e sempre usiamo usando la programmazione funzionale possiamo dire for each for each per ognuno di questi a cosa dobbiamo fare? dobbiamo agganciare un event listener un event listener che quando clicchiamo che intercetti l'evento click e faccia qualcosa quando clicchiamo su una di queste voci quindi per ognuno di questi link arrow function e facciamo così così abbiamo un a capo arrow function che cosa? link.add event listener qual è l'evento che vogliamo intercettare è il click del mouse e cosa vogliamo fare quando intercettiamo l'evento un'altra arrow function ok quindi ripeto la prima mi prende tutti questi e tre questo qui reselector e per ognuno di questi tre for each aggiungo un event listener quindi il primo avrà un event listener il secondo avrà un suo event listener diverso da primo e il terzo avrà un suo event listener diverso da primo che si comporteranno in maniera identica cioè andranno ad aggiornare questa tabella ma ovviamente la aggiornaranno in maniera diversa perché tutto dovrà visualizzare tutto 2020 dovrà visualizzare 2020 e 2019 dovrà visualizzare solo il 2019 e se avessimo un 2018 dovrebbe visualizzare solo il 2018 quindi cosa succede quando facciamo click e dobbiamo partiamo dalle cose facili se facciamo click su 2020 dobbiamo togliere lo sfondo blu da qui e aggiungerlo a 2020 e poi aggiornare la tabella quindi ci serve l'elemento su cui abbiamo fatto click e l'elemento è l'event punto target quindi l'elemento su cui abbiamo fatto click è dentro event punto target poi ci serve sapere a questo punto dobbiamo togliere l'active da da un altro elemento non sappiamo qual è perché non è quello che abbiamo cliccato quindi quando clicchiamo su 2020 ce ne sarà un altro che ha lo sfondo blu di attivo quindi dobbiamo togliere quella classe attiva quindi di nuovo this punto sidebar container punto query selector selector di a punto active cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere la lista di classi css class list e rimuovere per ognuno active la classe active lo ripeto cosa fa questa riga prende tutti prende l'elemento che ha che è di tipo A e ha come classe active in questo caso prenderebbe questo tutto e rimuoverebbe la classe active a questo punto andiamo ad aggiungere questa classe active all'elemento che abbiamo cliccato quindi l.class list punto add active quindi aggiungiamo la classe che abbiamo appena rimosso all'elemento corrente alla classi css d'elemento corrente quindi abbiamo sistemato diciamo così la grafica di questo ora quando clicchiamo su 2020 dobbiamo modificare la tabella quindi dovremmo ipoteticamente chiamare questo this punto show exam passandogli stavolta una diciamo lista di esami aggiornati quindi quando clicchiamo su 2020 dovremmo passare solo gli esami del 2020 allora dobbiamo innanzitutto sapere uno su cosa abbiamo cliccato se è su 2020 su 2019 su tutto e due generare questa lista di esami allora per sapere su cosa abbiamo cliccato abbiamo due modi uno un pochino più carino e uno un pochino più brutto il modo un pochino più brutto è andare a prendere dall'elemento l'inner text l'inner text dell'elemento avrà quando abbiamo cliccato su tutto scritto tutto quando abbiamo cliccato su 2020 scritto 2020 quando abbiamo cliccato su 2019 scritto 2019 e questo è un modo che funziona ma non è tanto bello soprattutto se uno avesse magari delle caratteri e con lo spazio un altro modo che è un pochino più carino è quello di andare a definire per ognuno di questi per tutto 2020 un attributo personalizzato gli attributi personalizzati in HTML si iniziano con data meno quello che volete voi data meno nome data meno anno data meno id quello che volete voi è a scelta io scelgo id e gli metto in questi id per esempio all poi creo un altro data.id su 2020 e questi id lo chiamo 2020 e poi un altro data.id su 2019 e questo lo chiamo 2019 a questo punto posso andare a recuperare sempre da l questo attributo questo attributo è in una proprietà che si chiama dataset punto id dataset rappresenta tutte le proprietà data trattino su quell'elemento e quello che viene dopo il trattino è questo id nel nostro caso e questo per esempio chiamiamolo filter type cioè il tipo di filtro che stiamo utilizzando tutto 2020 2019 ok a questo punto abbiamo qui dentro se stiamo vediamo a vedere tutto il 2020 o il 2019 dobbiamo filtrare gli esami allora per filtrare gli esami potremmo invece di usare direttamente this show exam creare un nuovo metodo che si chiama on here selected cioè cosa succede quando abbiamo selezionato l'anno e dobbiamo dirgli quale anno l'anno è questo di filter type quindi on here selected questo è l'anno cosa dobbiamo fare? l'abbiamo detto dobbiamo prendere la nostra lista di esami e filtrarla per anno allora creiamo una lista di esami locale stavolta alla nostra funzione e diciamo se anno è uguale uguale a tutto ad all allora esame sarà uguale a this.exam cioè alla nostra lista completa di esami quella che abbiamo generato con nell'exam manager con il metodo build my exam altrimenti in tutti gli altri casi ci aspettiamo che ci sia un numero che ci sia un anno allora exam in tutti gli altri casi sarà uguale a this.exam manager punto get by year il metodo che abbiamo chiamato che abbiamo appena creato quale year quello che abbiamo passato ha il nostro alla nostra funzione quindi quando clicchiamo su 2020 qui ci sarà scritto 2020 qui ci sarà 2020 e questo if non andrà nella prima ipotes nel primo caso ma andrà qui e chiamerà questo metodo get by year che filtrerà questo sulla data tra il primo gennaio e il 31 dicembre di quell'anno quando ci sarà scritto 2019 la stessa cosa quando ci sarà scritto all entrerà in questa condizione e quindi exam sarà fatto sarà a posto completo a questo punto dopo che abbiamo riempito queste exams locale in maniera appropriata possiamo chiamare this.show exam la stessa funzione che abbiamo già lo stesso metodo che abbiamo già scritto ora ovviamente per chiamarla dovremmo passargli quale esame vogliamo visualizzare quindi qui dobbiamo passargli exams questo deve accettare un parametro su cui dobbiamo ciclare e qui ovviamente dobbiamo scrivere this.exams perché? perché alla creazione della pagina vogliamo vederli tutti questo tutto sarà evidenziato quando clicchiamo su uno di queste tre voci vogliamo invece vedere solo quelli della voce su cui abbiamo cliccato quindi salviamo e proviamo aggiorniamo tiriamo su questo e va bene manca la map che non me l'ha fatta scaricare e proviamo a vedere cosa succede quando clicco su 2020 ecco vedete cosa succede che ho aggiunto in questo caso dopo il 2019 altri esami allora ovviamente se clicchiamo su 2019 aggiungiamo quello del 2019 se riclicchiamo su 2019 lo aggiungiamo di nuovo ovviamente noi non vogliamo aggiungere in tabella ma vogliamo far sì che a un certo punto che si svuoti la tabella quindi dobbiamo per esempio qui in year selected visto che quando clicchiamo andiamo a modificare la tabella svuotare questa tabella come la svuotiamo? beh questa è facile perché abbiamo il nostro exam container e possiamo dire se l'exam container non è vuoto quindi se è pieno se ha già qualcosa dentro lo svuotiamo inner html ovviamente anche qui inner html lo svuotiamo lo svuotiamo usiamo le virgolette singole invece che le doppie per coerenza ok quindi se è pieno lo svuotiamo salviamo aggiorniamo e vediamo se è vero questo è tutto schiacciando su 2020 in effetti il 2019 scompare schiacciando su 2019 compare solo il 2019 e rischiacciando su tutto ricompare tutto ultima cosa sistemiamo questa visualizzazione di data quindi qui non sarà più exam.date ma sarà format e formattiamoli come ci piace la data per esempio potremmo volere giorno mese anno salviamo e aggiorniamo perfetto abbiamo di nuovo la data formattata come vogliamo noi ok questo chiude questo esempio e mappa anche abbastanza bene il laboratorio 3 perché nel laboratorio 3 vi si chiederà di rimpiazzare il contenuto della vostra to do list del vostro task manager in maniera analoga a quanto abbiamo fatto con gli esami far funzionare i filtri che lì saranno importanti 7 giorni eccetera anche usando moment più di quanto abbiamo fatto noi e però il concetto è lo stesso questa è anche una list grid una list group come come quella del laboratorio 3 come quella che probabilmente avrete usato nel laboratorio 3 che c'è nella soluzione del laboratorio 3 il laboratorio vi chiede di creare vi suggerisce di creare un terzo file un altro file non solo app ma anche filters per gestire tutto questo al momento erano pochi filtri quindi ho preferito anche per velocità farlo qui ma l'idea è che filters essenzialmente possa contenere questo cioè vada a fare i ragionamenti necessari per attivare i filtri corretti quindi quindi un'ulteriore classe con cose da passare io adesso dopo aver pubblicato questo video vi pubblico anche il codice sorgente di questa soluzione che vi ho appena mostrato e in aggiunta a questo vi pubblico anche il codice sorgente della stessa soluzione ma con una classe in più che si chiama appunto filters.javascript che però funzionalmente è identico a questo da notare che la soluzione con filters.javascript ha un paio di elementi caratteristici un pochino più complessi diciamo così perché dobbiamo passare da app a filter e poi da filter dobbiamo ritornare ad app e questo passaggio al contrario si può fare o passando un riferimento di app a filter in modo che poi possa richiamare i metodi indietro ma non è tanto bello che le due classi si chiamano in questo modo oppure si può fare per esempio generando un evento e l'esempio la soluzione diciamo l'esempio che vi caricherò che vi ripeto funzionalmente è uguale a questo va su quella strada quindi filters genererà un evento personalizzato l'equivalente di click ma ovviamente personalizzato generato al momento per dirgli per dire ad app.javascript ho cliccato uno di questi tasti e in particolare ho cliccato questo e quindi fai quello che è riportato in questo metodo onEarSelected è riportato